Il Fabri c'è ancora la situazione, noi possiamo vedere la storia, l'unica cosa la Toscana deve venire la mia vita quando sto per arrivare, e voi, se vuoi andare a fare i posti per prendere le misure, io guardo il segnale, appena dico, uscirà quella parte, perché i treni passano qua, devo passare l'ultimo treno, lì e quando c'è l'ultimo treno, ragazzi se vi dico il treno, dovrà dare quella parte, ok, perché il treno che parte passate? Di qua! Ragazzi, vediamo la prossima, metterò un tiktok fra un paio di giorni. Rete Ferroviaria Italiana, anche sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione vigente, ha istituito una commissione di indagine, presieduta da autorevole esponente del mondo accademico, i cui esiti saranno prontamente messi a disposizione delle autorità competenti. Chiediamo tramite suo tramite un'informativa urgente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per dare immediato seguito alla richiesta arrivata anche ieri con forza dai cittadini e dai sindacati scesi in piazza a Vercelli, per chiedere di non caricare mai più sulla pelle dei lavoratori tempi ristrette e risorse ridotte degli appalti e di cambiare il sistema delle manutenzioni. Kevin Lagana, Michel Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Saverio Lombardo e Giuseppe Aversa hanno perso la vita in un drammatico incidente per tutti loro, ma anche per le altre sei donne uccise in episodi di femminicidio. Credo che sia sentito da parte di tutto il Senato rivolgere un pensiero e un minuto di silenzio. Buongiorno cari telespettatori, a proposito della tragedia e della strage di Brandizzo poco fa in un'intervista radiofonica il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Vice Premio Salvini, ha detto che chi ha sbagliato pagherà a proposito della richiesta del Partito Democratico del fatto che il Governo riferisca in aula su quello che è successo. Abbiamo cominciato anche noi con questo video shock girato dalla vittima più giovane di questo terribile incidente ferroviario, Kevin Lagana, si sente quella voce, avete visto anche i sottotitoli perché non tutte le parole sono chiarissime, la voce probabilmente, quasi certamente del tecnico di reti ferroviari italiane, Massa, che appunto dà il via ai lavori, all'apertura del cantiere sincerandosi che prima sia interrotta la circolazione dei treni, cosa che in questo caso non era avvenuta e un video anche emotivamente molto coinvolgente ed è la prova di quello che è successo, insomma una delle prove di quello che è successo e che si sospettava. Avete sentito anche cosa ha detto l'amministratore delegato di reti ferroviarie italiane che ha detto che non esiste alcuna deroga per quanto riguarda la sicurezza e appunto è stata aperta un'inchiesta interna, quindi massima collaborazione ovviamente in questo caso con la magistratura. Cominciamo da qui, poi parleremo di tutta la partita che riguarda l'economia, la manovra che verrà, la legge di bilancio, oggi c'è stasera a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni, si parlerà probabilmente anche dello Stato dell'arte e delle riforme costituzionali, un vertice preceduto ieri da una scena a cui ha partecipato appunto la stessa Premier Giorgia Meloni e tutti i parlamentari, gran parte dei parlamentari di Fratelli d'Italia, un po' il serrate, i ranghi in vista appunto dei tanti impegni del governo, considerando che Giorgia Meloni parte tra poco per il G20 in India. Allora intanto vi saluto e presento i nostri ospiti, bentornato a Marcello Veneziani, giornalista e saggista, buongiorno Veneziani. Buongiorno. Eccolo, poi c'è con noi Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, ciao Massimiliano. Buongiorno, grazie Andrea, un saluto a tutti e a tutti. Grazie a te per la CISL, segretario confederale Giorgio Graziani, buongiorno che ieri peraltro anche lui è stato ascoltato in Parlamento a proposito di quello che è successo a Brandizzo, a proposito della condizione dei lavoratori della rete ferroviaria. Per la maggioranza do il bentornato all'onorevole Raffaele Nevi che è da poco portavoce nazionale di Forza Italia. Buongiorno e bentornato. Per l'opposizione c'è il senatore Enrico Borghi che è il capogruppo di Italia vive azione ancora insieme al Senato. Buongiorno. Vorrei partire da Marcello Veneziani. Marcello Veneziani, diciamo al di là delle implicazioni poi che riguardano i fatti che la magistratura deve appurare di quello che è successo, che effetto le fa vedere questo video, sentire quelle voci, vedere queste persone di cui abbiamo imparato i nomi in questi giorni ma che non conoscevamo. Diciamo che il primo effetto e quello più duraturo è sempre di natura personale, cioè la tragedia di alcune persone. Le altre ragioni che ci portano a soffermarci su questa tragedia sono ragioni che vengono soltanto dopo e sono ragioni in cui sicuramente responsabilità di ordine generale e responsabilità specifiche possono poi emergere, ma credo che il fatto sia proprio l'imponderabilità di alcuni fatti che accadono. Ci sono tragedie che nascono da una crocevia di coincidenze, bisogna solo indagare se oltre alle coincidenze fortuite ci sono responsabilità specifiche. Ecco, ma non credo che su questi temi si possa aprire una partita politica, perché credo che la stessa cosa sarebbe accaduta con altri governi e le stesse reazioni avrebbero avuto quasi tutti coloro che sono stati in precedenza al governo. Credo che in questi casi bisogna davvero mettere da parte ogni tentativo di dare una connotazione politica a un evento che invece va affrontato con realismo e con senso della pietà. Ecco, quello che colpisce, adesso poi magari entriamo un po' nel dettaglio della tragedia di Brandizzo, è che in Italia ogni giorno si continua a morire sul lavoro, le statistiche, i numeri sono impietosi. Io ricordo che l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in uno dei suoi primi interventi, forse proprio all'inizio del mandato, pose un fortissimo accento, una grande sottolineatura appunto sui morti sul lavoro, lo ha fatto in moltissime occasioni anche l'attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella. E vado da Giorgio Graziani, mi pare di capire, adesso poi lei me lo confermerà, che ieri oltre all'amministratore delegato di Redi Ferroviari Italiane siete stati ascoltati, in UGL, Cisleguile UGL credo, in Parlamento, e credo che i sindacati, mi pare di capire, chiedano una procura nazionale per gli incidenti sul lavoro e l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Voi chiedete questo? Allora, detta come va detta, questa è una proposta che ha fatto quella della procura che ha fatto la CGL e il reato di omicidio l'ha fatta la UIL, noi non abbiamo espresso questo tipo di proposta mirata. Certo, abbiamo un problema sul sistema giudiziario, in particolare sulle questioni che riguardano i reati penali relativa alle responsabilità sugli incidenti su salute e sicurezza, in particolare sugli incidenti mortali, ma anche sui tanti infortuni e sui tanti mancati incidenti, sui quali tante volte purtroppo per mancanza di competenze specifiche dentro al sistema giudiziario non si riesce ad arrivare ad una, come si dice, definitiva sentenza prima che la prescrizione avvenga. Allora su questo è chiaro che abbiamo bisogno, necessità, che sia un'autority, che sia una procura, che sia una specifica sezione del sistema della magistratura, di avere un'accelerazione, un'attenzione particolare, anche se me lo permetta, parlare di questo significa parlare del dopo, mentre noi pensiamo in un modo o nell'altro che ci sia un'esigenza sul tema della salute e sicurezza di non arrivare sempre dopo, ma di aprire un discorso, un ragionamento. La cosiddetta prevenzione, diciamo è la prevenzione. Senta, su questa vicenda terribile in particolare lei che opinione si è fatta? Il video è agghiacciante. E abba che eloquente. Di grandi emozioni contraddittorie anche sul piano personale, però è chiaro che non c'è mai casualità in un incidente, c'è sempre una responsabilità e questo spetta la magistratura. In verità tante volte noi lo diciamo, noi abbiamo le leggi migliori d'Europa, abbiamo dei contratti nazionali che se applicati, oltre ad applicare la legge, sono incapaci di ulteriori tutele sulla protezione, sulla prevenzione in tema di salute e sicurezza, tante volte, tante volte, o per fattori di pressioni aziendali, o per fattori di superficialità, o banalizzazione, come se fosse una burocrazia. Quando le dici pressioni aziendali vuol dire dobbiamo fare presto, che vuol dire? Beh, può essere il fatto che dobbiamo fare presto, il fatto che in un modo o nell'altro, ma sì, è inutile che state a guardare quello o quell'altro meccanismo di protezione, ci farebbe allungare i tempi, invece dobbiamo, prima finiamo, prima in un modo o nell'altro andate a casa e noi ci guadagniamo di più, anche una questione di profitto. Sarebbe banale dire solo questo, la verità è che in un modo o nell'altro non c'è collaborazione, partecipazione, capacità di mettere in campo un quadro sinergico, noi diciamo quello sì, siamo gli unici che non ha una strategia nazionale sulla salute e sicurezza, in Europa è prevista... Perché continua a essere considerata come un costo e non come un investimento, mettiamola così, no? Ma non solo, cioè proprio è banalizzata, anche nella testa delle persone comuni, si pensa che in un modo o nell'altro tanto succede agli altri e non succede a me, perché io sono tanto esperto e supero quelli che possono essere gli elementi che mettono in discussione... Allora, tengo ancora in attesa i due rappresentanti della politica e voglio sentire Massimiliano Panarari, perché qualcuno pure oggi, l'ha notato in questi giorni e oggi qualcuno credo l'abbia scritto, cioè voglio dire il gruppo Ferrovie dello Stato è un gruppo, un enorme gruppo, con molte società, è pazzesco che ancora si parli di fonogrammi, di telefonate, quando la tecnologia ci offre dei mezzi straordinari, anche per lavori e cantieri come questo, o no? Sì, questo è un elemento, diciamo, molto interessante, appunto, all'interno di quello che è un autentico mosaico, perché in questa tragedia, che è una, come ricordavi, delle tante tragedie che continuano purtroppo ad avvenire su luoghi di lavoro, è impressionante dover constatare ogni volta come i lavoratori siano, per molteplici ragioni, per l'appunto a minaccia di vita, semplicemente nel momento in cui eseguono i loro compiti o le loro mansioni, per tante ragioni, come diceva anche il sindacalista prima. Ma è impressionante come in questa vicenda si saldino delle questioni tra loro differenti e una sicuramente ha a che fare, per un verso, con la tecnologia, ovvero con il fatto che tutte le organizzazioni, le organizzazioni complesse, come in questo caso quella di cui stiamo parlando, hanno settori che devono essere amalgamati, messi in condizioni di comunicare in maniera efficiente, ma che per tante ragioni non lo fanno. Dall'altro c'è un tema anche di inerzia organizzativa, nel senso che le grandi organizzazioni, in realtà, soprattutto se sono degli arcipelaghi, che sono stati divisi per ragioni teoricamente di efficienza, magari invece per motivazioni molto più concrete che hanno a che fare con la ripartizione dei compiti o con la ripartizione delle responsabilità, in realtà faticano appunto a coordinarsi e quindi l'inerzia organizzativa, cioè il continuare a utilizzare i metodi, le strumentazioni, le forme di comunicazione che usavano nel passato, continua ad essere per l'appunto trascinato e fatto. L'altro elemento ha sicuramente a che fare con una logica, che è una logica che è diventata purtroppo inesorabile, quella appunto del risparmio, dell'appalto a ribasso e anche questo rende poco facile le comunicazioni tra le imprese, poi che organizzano e realizzano concretamente i vertici aziendali. È in qualche modo la tempesta perfetta, dove naturalmente perfetta indica il fatto che una serie di fattori che non dovevano saldarsi, invece hanno trovato la loro sintesi, che è diventata in questo caso una sintesi tragica e luttuosa. C'è davvero solamente da ragionare in termini di prevenzione per un verso e questo è quello che deve fare il potere pubblico di ogni colore, naturalmente di ogni orientamento e dall'altro mettere mano però anche alle regolamentazioni sugli appalti in maniera da rendere la sicurezza, che è un costo ovviamente, ma è un costo indispensabile, qualcosa di centrale. Insieme anche, e qui però è una questione di ordine psicologico, ce lo ricordava appunto il sindacalista che ha parlato prima, il fatto che tutti noi pensiamo naturalmente che le cose non ci accadranno è anche un meccanismo indispensabile alla vita, nel senso che se ogni volta che facciamo qualcosa, ogni volta che eseguiamo un compito, dovessimo pensare alla complessità che lo riguarda e non andassimo in maniera automatica, tutto questo naturalmente ci rallenterebbe. Il punto è che invece le cose accadono ed è impressionante constatare questa sproporzione tra la fragilità di ciascuno di noi anche in questi meccanismi psicologici il fatto per l'appunto che ci sono grandi strutture, grandi appalti, grandi opere che devono essere realizzate e anche all'interno di quelle organizzazioni, come dicevi Andrea, ci sono dei relitti del passato, diciamo così, dei modi troppo tradizionali di comportarsi delle organizzazioni che non facilitano appunto la cosa. Allora questo era l'inizio, diciamo, adesso ci fermiamo qualche minuto e poi sentiamo sia Nevi che Borghi su alcune delle cose già che sono emerse in queste prime riflessioni. Allora, riparto dall'onorevole Nevi. Onorevole Nevi, tanto Salvini riferivo cosa ha detto stamattina, vediamo se poi come rappresentante del governo andrà in Parlamento a riferire. Quello che le voglio chiedere, perché già sono emersi dei dati, per esempio, no, si è parlato di appalti, l'altro giorno l'Olandini ha detto basta con i subappalti a cascata e qualcuno ha tirato in ballo adesso al di là dell'episodio specifico di Brandizzo il nuovo codice degli appalti, perché poi sappiamo che siamo in pieno PNRR, che per realizzare le opere entro il 2026 bisogna non correre ma di più e quindi tutto questo può fare a cazzotti. Cioè una cosa è la sicurezza, una cosa è la celerità, mettere insieme le due cose non sempre è facile. Che riflessione state facendo da questo punto di vista, diciamo purtroppo anche sulla scorta di questa tragedia che è avvenuta a Brandizzo? Ma più che vietare cose bisogna rispettare le norme che ci sono. Questo incidente, l'ennesimo incidente, che dimostra che appunto non sono state rispettate le procedure, perché se fossero state rispettate le procedure probabilmente oggi sarebbe una giornata normalissima e non ci sarebbe stata questa grande e immensa tragedia. Quindi ecco, il lavoro più importante da fare è sicuramente quello di lavorare anche nelle scuole. Io condivido al 100% la cultura della sicurezza. Esatto, investire sulla cultura della prevenzione del rischio e quindi sull'innalzamento dei livelli di sicurezza, perché appunto al di là di questo macro problema ogni giorno ci sono morti sul lavoro che parlano di artigiani che non seguono le procedure, di persone nell'agricoltura che hanno mezzi che sono fuori norma, persone che con una certa superficialità approcciano anche a lavori che sono oggettivamente pericolosi. Però la sicurezza oltre lo fatto culturale è un costo. Esatto, è un costo. Noi da tempo diciamo che occorre defiscalizzare questi costi per le imprese, dobbiamo forse anche sburocratizzare alcune procedure e badare di più alla concretezza e alla sostanza e alla certezza delle norme di sicurezza. Qui tra l'altro stiamo parlando di un committente pubblico, quindi insomma è iper procedimentalizzato il processo di appalti da parte di RFI, quindi stiamo parlando anche di una realtà molto importante e tra le più serie del Paese. Quindi evidentemente dobbiamo accertare i fatti anche di questo incidente, non sottovalutando quelli che accadono tutti i giorni e poi insieme, lontani dalle impostazioni ideologiche. Ecco, questo penso che sia invece importante perché ogni volta che succede qualcosa c'è qualcuno che fa anche leva sull'emotività del momento per chiedere diciamo in asprimenti di bene pazzeschi, cose eccetera. Ecco, io penso che invece qui ci sia ancora un grande lavoro da fare, a partire, sono d'accordo con la CISL, dalle scuole per innalzare culturalmente il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro. No, perché lei diceva ideologizzare, adesso non so se questo c'entra un po' come dire l'accusa che viene mossa, ripeto, a prescindere da questo episodio, alla destra, cioè meno attenzione alla sicurezza, a certe regole, perché bisogna fare in fretta, come l'opposizione dice, che insomma state precarizzando il lavoro, continuate a precarizzare il lavoro. Adesso poi torno da lei. Borghi, poi c'è anche un problema proprio di controlli, perché qualcuno diceva le leggi in Italia, abbiamo fior di leggi, però poi abbiamo un ispettorato del lavoro che ha bisogno di molte più persone, cioè ci sono dei temi giganteschi che riguardano poi anche le spese dello Stato, perché poi sappiamo quante poche risorse ci sono a proposito di legge, di bilancio che verrà, però bisogna anche che ci siano controlli maggiori, forse più attenti, più severi, non lo so, e quindi più persone. Ma dentro la riflessione che è stata fatta e che credo dal punto di vista del metodo, almeno questa mattina, sia corretta, perché il tema della strumentalizzazione di questo tipo di vicende è sempre sbagliato, io vorrei introdurre due ulteriori elementi di riflessione. Il primo è di carattere più generale, e cioè l'esigenza di un recupero, mi verrebbe da definirlo così, di un etos legato al rispetto della persona, al valore della vita e al modo con il quale ci rapportiamo al prossimo, perché colpisce, io lo ringrazio da questa sede nonostante sia dell'opposizione, ma credo che ieri il Presidente del Senato abbia rappresentato la coralità di tutte le forze politiche, ma colpisce il fatto che il Presidente del Senato nel proprio speech ricordi le persone che sono morte a Brandizzo, le donne che sono state uccise, le ragazze di Caivano, cioè c'è una logica di dequalificazione del valore della vita, del rapporto con la persona, una mercificazione dell'idea della persona a vari livelli, che poi si traduce nel fatto che alla fine, ragazzi spostatevi, vi dico io, quando arriva il treno, sembra quasi una cosa banale quanto agghiacciante, quindi io credo che ci sia un bisogno collettivo dentro questo approfondimento di natura culturale di un recupero etico che affronta evidentemente una questione che va al di là delle regole che da sole, attenzione, sono indispensabili ma non risolvono la questione, però non mi sottrago rispetto anche alla domanda, e credo che se, come dice Graziani, siamo il Paese che ha sulla carta le leggi migliori d'Europa, ma non riesce a metterle a terra, allora noi abbiamo anche qui, soprattutto qui, visto che c'è di mezzo la vita reale dei nostri cittadini, un drammatico problema di efficienza della pubblica amministrazione, di implementazione dei processi, di messa a terra di che cosa le leggi prevedono. Su questo io penso, piuttosto che operazioni panpenalistiche, che rischiano di placare il desiderio di immediata risposta, per cui chi fa politica può dire, vabbè aumentiamo le pene, introduciamo nuove modalità, nuove figure di reato, il tema vero è come funziona la macchina della giustizia in rapporto a due elementi, la prevenzione, quindi gli ispettorati generali del lavoro, che non è giustizia ma è parte amministrativa, e poi la magistratura laddove deve perseguire i reati che vengono poi accertati in sede di verifica di controllo amministrativo. Ecco, se noi ci concentrassimo su dare efficienza a questi due elementi, io credo avremmo fatto molto. Mi faccia dire, venendo dal Piemonte, che dopo la Thyssen, dopo il Mottarone e oggi a Brandizzo, questi temi devono diventare dei temi che noi affrontiamo non sull'onda dell'emozione o nei ritagli di tempo. E il tema dell'attuazione del PNRR diventa anche il momento in cui questi elementi vengono inseriti all'interno di una politica organica. Dire che bisogna riflettere sul codice degli appalti perché probabilmente la catena della sub-fornitura porta poi a contrarre gli elementi di garanzie e di sicurezza. Non significa voler introdurre, almeno per parte nostra del centro, un elemento di polemica spicciola. Significa verificare davvero che cosa sta accadendo. Dire che i temi della sicurezza devono diventare un elemento strutturale, innanzitutto delle aziende pubbliche. E poi, dentro nel processo di produzione, significa anche, per esempio, costruire attraverso le risorse del PNRR questa nuova cultura che possa poi portarci a mettere a terra cose che teoricamente esistono. Allora, voglio ricoinvolgere Marcello Veneziani a proposito non di questa vicenda, ma prima si accennava anche ai terribili episodi che hanno segnato queste ultime settimane a proposito di femminicidi, di violenza minorile. Oggi, peraltro, a Napoli ci sono i funerali, c'è il lutto cittadino, i funerali per Giovanni Battista Cutolo, che è quel ragazzo musicista di 24 anni, frendato a colpi di pistola da un 17enne in pieno centro a Napoli. Alla vigilia di questa giornata di lutto a Napoli, ieri c'è stata una maxi-operazione delle forze dell'ordine a Caivano, al Parco Verde, dove erano state, peraltro, stuprate due cuginette piccolissime. C'era stata la visita della Premier Giorgia Meloni, che aveva annunciato, credo testualmente, la bonifica di quella zona, di quell'area. C'è stato questo blitz, sono state sequestrate alcune armi, alcune munizioni, del denaro, ma molti, insomma, sono stati critici. Hanno detto, intanto, era un blitz annunciato da tempo e quindi la criminalità organizzata, perché lì è il regno della droga, ha fatto sparire tutto ben prima. E soprattutto qualcuno accusa il governo, appunto, di aver fatto una rappresentazione a beneficio delle telecamere di questo blitz, e non è quello, non basta quello. Vediamo le immagini e sentiamo il Ministro Piantedosi. Non sarà un episodio isolato, come abbiamo detto, che peraltro fa seguire da altri interventi che abbiamo fatto. Qui c'è stato un impegno personale anche del Presidente Meloni, che ringrazio per l'incoraggiamento che ci ha dato. I primi esiti danno il senso, la proficua valenza di quello che abbiamo fatto, e ripeteremo ancora. Stanno crescendo le periferie, non solo in senso fisico, ma anche periferie della nostra società, e noi ce ne faremo canto. Ecco, appunto, ho detto ieri Meloni, questo è solo l'inizio, non ci possono essere zone franche. E io vado da Marcello Veneziani, che è meridionale, si occupa di meridione da tempo, è un, diciamo, fine conoscitore di queste realtà. Ha da poco pubblicato, vi faccio vedere la copertina, Vico dei Miracoli, vita oscura e tormentata del più grande pensatore italiano, una sorta di romanzo popolare dedicato a Gian Battista Vico. Allora, chiede a Marcello Veneziani, intanto, di queste periferie del Sud, che cosa pensa di quello che è successo a Caivano? Cosa pensa? Beh, sappiamo che questi temi riguardanti le periferie del Sud sono temi che non nascono oggi, nascono ormai da tantissimi anni, sono il frutto di un malessere strutturale, diciamo, non soltanto legato a singoli episodi. Credo che la peggiore risposta che si possa dare a questi fenomeni è far nascere nuove leggi speciali, come sempre accade di fronte ai femminicidi, di fronte agli incidenti stradali. Cioè, si ritiene che si colpisca di più l'opinione pubblica creando una legge ad hoc o creando, come dire, un inaspiramento delle pene. Quando il problema è di rendere più efficiente la risposta di un sistema, più sicura e più bonificata la società, sono temi ovviamente generali che non possono essere affrontati e risolti nell'arco di un'esperienza di governo, ma sono i temi veri e poi l'intervento specifico sui singoli fatti. Ecco, credo che l'errore, il limite in questi casi sia proprio quello di tentare di intervenire attraverso leggi che possano in qualche modo supplire alla carenza di realtà. Cioè, quando non riusciamo con i fatti a cambiare le cose, allora inventiamo una nuova legge che sostituisce la importanza di incidere nella realtà. Credo che questo sia uno dei grandi temi. Naturalmente, riguardo poi al Sud, ci sono tanti altri temi specifici. Quando il Sud è ormai frutto, vittima di una emorragia costante, i giovani vanno via dal Sud. Quando il Sud diventa la terra degli anziani e non nel senso che accoglie gli anziani di tutta Europa, come sarebbe auspicabile e come avviene in altre zone d'Europa, penso per esempio le Canarie o il Portogallo, ecco, quando il Sud è così abbandonato, è evidente che poi i frutti del malessere si ingigantiscono e quando si vive nel brutto, la brutalità diventa una delle conseguenze più dirette del brutto. Ecco, quindi credo che ci siano degli interventi strutturali che inevitabilmente risalgono ad una visione diversa e culturale del Sud. Se posso aggiungere solo una considerazione di ordine generale, il Sud finora è stato concepito come un Nord in via di sviluppo, cioè come una parte tardiva del nostro Paese. Ecco, forse sarebbe bene cambiare interpretazione in linea e immaginare che il Sud possa avere una sua via autonoma, indipendente, in tono con la sua specificità territoriale, con la sua cultura, con i suoi prodotti, con la sua gente. Ecco, il tentativo di imitare altri modelli, altri Paesi, o di arrivare all'industrializzazione, quando ormai siamo da tempo in un'epoca post-industriale, è una pura follia. Quindi probabilmente c'è bisogno di un cambiamento di visione per quanto riguarda il Sud. E poi tutto il resto riguardo le azioni specifiche e pratiche che possono riguardare i singoli fatti di malavita, di delinquenza, che purtroppo ancora infieriscono sul corpo martoriato del Mezzogiorno. Ecco, vorrei dire due cose, poi torniamo ovviamente a occuparci in particolare di questo bel libro di Marcello Veneziani. Voglio dire che però il Sud, che peraltro credo le regioni del meridione d'Italia, o del Mezzogiorno, come si dice, dovrebbero essere le maggiori beneficiari dei fondi del PNRR, o comunque insomma di una fetta consistente. L'80%. L'80%. In questi mesi, in questi anzi, forse più che mesi, anni, ha dimostrato una grande vitalità il Sud. Cioè il Sud ha fatto passi da gigante, anche dal punto di vista delle realtà produttive, dal punto di vista dell'economia. Cioè, poi il Sud, sono tanti Sud, e va raccontato anche con dei dati. Quindi non è che il Sud sia così indietro, così arretrato, come spesso nel racconto lo si dipinge. Non lo dico perché, io pure da uomo meridionale, non sto qui a difendere il Sud o il Nord, però poi bisogna ragionare anche con i dati. Anche dal punto di vista del PIL, ci sono stati dei dati in cui si evidenziava che rispetto al centro e al nord, il Sud addirittura in alcune fasi è andato meglio. Qualcuno dice che si parte da posizioni più arretrate, quindi la crescita è maggiore. Però insomma, teniamo conto che ci sono realtà straordinariamente vitali nelle varie regioni del Sud, perché poi sono anche qui molto diverse tra loro. Ecco, volevo fare questa piccola parentesi a proposito di Sud. Chiedo a Nevi, credo che ci sarà un Consiglio dei Ministri domani, è vero oggi c'è il vertice sulla manovra e via dicendo, però credo che si parla già di provvedimenti, un decreto caivano, non so come sarà definito, norme più stringenti anche riguardo la delinquenza minorile, il possesso di armi di 14 anni, di 15 anni, cioè c'è questa intenzione, no? Ma sì, l'intenzione è quella di andare a guardare nello specifico quello che succede nella società e cercare di capire se ci sono anche buchi normativi, perché questo può essere. Però io condivido molto, direi al 100% quello che diceva Veneziani, cioè noi dobbiamo smetterla di costruire norme su norme, spesso, come dicevo prima, sull'onda dell'emotività dei fatti che accadono, e cercare invece di andare a capire bene dove sono i nodi veri, che secondo me sono soprattutto dal punto di vista culturale, soprattutto in alcune zone, anche per fatti, diciamo, di natura sociologica, che interessano determinate aree. E quindi, ecco, il tema, almeno per noi di Forza Italia, è questo, cioè fare in modo che ci sia un lavoro più strutturale e più sul medio-lungo periodo, piuttosto che sull'onda dell'emotività dei fatti che accadono. Allora, vado in pubblicità, adesso voglio sentire anche gli altri nostri osfiti, perché questo è un tema molto importante. Dopodiché il tema anche del Sud è vero, anche qui quello che dice Veneziani, cioè non bisogna forzare lo sviluppo, cioè una nuova cassa del mezzogiorno la eviterei, però è evidente che lo Stato deve puntare sul Sud per le infrastrutture materiali e immateriali, che possono essere il presupposto per uno sviluppo anche, diciamo, di natura diversa sul turismo, sull'agricoltura di qualità e di precisione, andando ad affrontare però i nodi veri che ci sono, che sono soprattutto infrastrutturali. Penso, per esempio, alle infrastrutture logistiche che sono un elemento fondamentale per la produzione, anche agroalimentare, e quindi è evidente che su questo lo Stato deve fare di più rispetto a quanto ha fatto nel passato, ma le risorse oggi ci sono. Il problema è, come al solito, sempre lo stesso, cioè metterle a terra e cercare di costruire, anche con una pubblica amministrazione più efficiente, più capace, soprattutto al Sud, di realizzarle. Allora, torniamo tra un attimo e ripartiamo, sempre occupandoci di Sud, tanto i temi si incrociano tra loro, ripartiamo dalla Sicilia, dove siamo andati a vedere qual è la situazione dopo la fine del reddito di cittadinanza. Sono partite in questi giorni, hanno debuttato le nuove misure del governo, la piattaforma che serve per presentare la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro, per avere il sussidio, mi pare, da 350 euro al mese per i cosiddetti occupabili e sentiremo un po' qual è la situazione in Sicilia. Dopo la pubblicità. Noi non ci fermiamo, noi continueremo sempre a protestare perché è un nostro diritto, non stiamo chiedendo un elemose, stiamo chiedendo la nostra dignità, vogliamo lavorare. Lui Alessio, palermitano, ormai ex percettore di reddito di cittadinanza, è un occupabile e da agosto non percepisce più il sussidio, come lui, altri 40.000 siciliani. Le prime misure post reddito però hanno già debuttato con il supporto per la formazione e il lavoro, la piattaforma per l'incrocio tra domanda e offerta di formazione e appunto lavoro. 350 euro mensili per un anno e la speranza di poter essere immessi nel mondo lavorativo. Oggi quindi tu presenterai questa domanda, però devo dirti da precisare che partirà il mese dopo, dal momento in cui tu l'hai presentata. Quindi le 350 euro non saranno il mese di settembre che li percepirai, ma se tutto andrà bene sarà giustamente accolta da ottobre. Noi siamo in grande difficoltà adesso, noi non sappiamo come ci dobbiamo comportare e noi non sappiamo come dobbiamo agire con il padrone di casa e come dobbiamo dire ai nostri padroni di casa che dobbiamo fare. Io non mi posso aspettare da un momento all'altro, da oggi a domani, che a me mi butteranno fuori di casa. E poi c'è Donatella, anche lei occupabile, un lavoro perso a Milano e il ritorno a Palermo tra incertezze e preoccupazioni. La realtà di Palermo, della Sicilia, è una realtà difficile, è sempre stato così. Non è che ci sono lavori irregolari neanche per i giovani che sono costretti ad abbandonare la propria terra. Quindi figuriamoci noi, alla nostra età, avere un inserimento nel lavoro. Non è che è difficile, è impossibile. Praticamente, come sopravvivo? Così, facendo dei piccoli lavoretti in nero. È inutile che ci nascondiamo di tanti e grandi bugie, facendo dei piccoli lavoretti in nero. e quindi sottopagata a 4-5 euro per poter almeno sopravvivere. Non dico pagare le bollette, pagare la casa, però almeno per riuscire a mangiare. Ecco, il governo ci ha completamente abbandonato, senza un'alternativa, così, nel nulla. Ha mandato questi sms, così, di tronco e ci ha lasciato per strada, proprio per strada ci ha lasciato. Tutto questo è veramente ingiusto. Signor Pannadari, il problema delle periferie di cui parlavamo, del sud, ma non soltanto del sud, deriva fortemente, tutti questi problemi derivano fortemente dalla questione lavoro? Sì, la questione del lavoro è una delle questioni più gigantesche e preoccupanti, davvero da far tremare le vene che ci troviamo di fronte. Ed è un problema che è difficile naturalmente affrontare per spot o per misure temporali. e per provvedimenti sporadici. È un problema gigantesco che va pensato nella sua interezza. Prima, il senatore Borghi faceva riferimento all'esigenza di recuperare un etos del rispetto della persona. Ecco, il lavoro tradizionalmente, il lavoro giusto, il lavoro adeguatamente ritribuito, il lavoro che sta all'interno delle regole è una forma di rispetto delle persone. Noi purtroppo, ma questo naturalmente ha a che fare con le trasformazioni profondissime della società anche con la comunicazione e con la digitalizzazione. Noi stiamo vivendo una fase profondamente differente. Stiamo, da molti punti di vista, vivendo la fine della civiltà del lavoro. La fine della civiltà del lavoro rappresenta per questo paese, in questo caso davvero dal Piemonte alla Sicilia, un problema gigantesco. E rappresenta un problema gigantesco per le persone, per la loro dignità, per la possibilità che si sentano utili rispetto alla società. Del resto, le periferie del sud si espandono, si allargano, anche perché tante persone capaci, tanti giovani non possono far altro che emigrare recuperando una lunga, tragica tradizione naturalmente della storia del nostro paese alla ricerca di una miglior fortuna. E allora, il reddito di cittadinanza era una misura viziata indiscutibilmente da alcuni problemi, così come il super bonus, ce lo possiamo dire, e soprattutto in una trasmissione così attenta all'economia qual è quella che fai tu, Andrea. Ma al di là dello specifico naturalmente vanno pensate delle misure di sostegno e di lotta contro la povertà così come delle misure di integrazione sociale e al tempo stesso quello che dovrebbe essere davvero l'ossessione, la magnifica ossessione dei politici dovrebbe essere la costruzione di condizioni laddove naturalmente può lo Stato e possono i poteri pubblici perché è molto altro che fare col mercato per mettere le persone nelle condizioni di lavorare, per rilanciare lo sviluppo. Il ragionamento che faceva Veneziani è molto giusto naturalmente, bisogna pensare delle vie peculiari, delle vie originali, rispetto all'espansione dell'economia ma sicuramente non è con la decrescita, sicuramente non è con la fine della civiltà del lavoro che noi possiamo costruire una società più armoniosa, più funzionante in cui ci siano meno conflitti perché le periferie sono anche periferie morali come abbiamo visto, sono periferie del disagio sociale, sono periferie della deriva psicologica e questo deriva anche dal fatto che le persone non trovano nel lavoro, nel tempo occupato attraverso un lavoro di qualità la possibilità di riscattarsi. Allora, prima di andare a parlo sotto Corona, Borghi credo volesse dire qualcosa e anche Nevi adesso rapidamente abbiamo da sapere com'è il tempo oggi. Sì, intanto la questione legata alla vicenda del servizio che abbiamo appena visto ci conferma che questo governo sta un po' procedendo sullo stesso peccato originario del precedente, cioè non c'è una scelta reale dal punto di vista della capacità di intervenire contro la povertà. Cioè, si tiene sempre insieme il tema delle politiche del lavoro e le politiche attive del lavoro e il tema del sostegno alla povertà con il risultato che non si fa nell'uno nell'altro e quindi con il fatto che, ce lo possiamo tranquillamente dire, questi 350 euro per un anno non risolveranno alcun problema, anzi, rischiano di perpetuare una situazione che peraltro si incancrenisce e rispetto alla quale mi ricollego alla precedente discussione che a mio avviso tiene insieme un filo rosso di oggi, noi abbiamo bisogno non di operazioni spot e anche questa è un'operazione spot, quanto di politiche organiche e implementazione dei processi. Faccio un esempio concreto. Grazie alle forze armate, scusi, alle forze dell'ordine che ieri sono andate a Caivano perché ogni volta che si toglie dalla società qualcuno che delinque è sempre positivo. Detto questo, siccome pareva una cosa abbastanza organizzata e, come dire, enfatizzata, usare 400 uomini per fare un'operazione di quel genere rischia di far scattare l'effetto prefetto Mori, cioè operazioni straordinarie, funzionali, più alla manifestazione dei muscoli, del potere, delle istituzioni che non è effettive a risolvere il problema strutturale. E uno dice ma come si risolve il problema strutturale? Faccio una proposta al collega Nevi anziché impegnare il Parlamento in una discussione inutile su un nuovo decreto che introduce misure panpenalistiche assumiamo i 25 mila poliziotti che mancano nell'organico della polizia. questa è una cosa concreta Nevi poi replicherà. Paolo, allora, se ci dici purtroppo rapidamente il discorso è molto semplice già si vede da queste immagini al nord e al centro a parte qualche nuvola c'è poco tutte le nuvole sono al sud e sullo Ionio zona di bassa pressione ma al tempo gli effetti si risentono appunto solo su queste regioni vediamo la prima carta quella che riguarda le 24 ore di oggi Calabria e Sicilia con precipitazioni moderate non sembrano particolarmente forti ci sono a largo sul mare sono moderate sulle altre regioni anche al sud sulla Puglia solo qualche nuvola sulle altre zone neanche quelle giornata di domani molto simile con però qualche fenomeno isolatamente intenso sia in Calabria che in Sicilia non è una cosa molto marcata ma ci può essere e qualche pioggia che risale su Basilicata e Campania sulle altre regioni sempre tempo stabile arriviamo a venerdì con situazione che comincia ad attenuarsi sicuramente in Calabria ma in Sicilia conserva un paio di zone in cui i fenomeni intensi ci possono essere centro e nord ancora con tempo assolutamente stabile temperature che risaliranno un po' insomma niente di particolarmente intenso ieri abbiamo intravisto questa foto che ci ha mandato Vanes un po' particolare perché è una foto che riassume tutta una serie di situazioni c'è il cielo sereno ci sono le nuvole bianche ci sono le nuvole scure con le piogge c'è un arcobaleno e c'è questo principio di tromba d'aria quindi vedete che c'è un po' di tutto la cosa curiosa è che se uno volgesse le spalle avrebbe davanti un cielo sereno dietro c'è tutto questo mondo come dire ogni tanto guardiamoci alle spalle che è meglio grazie rapidissimi in pubblicità riparto da Nevi tra poco allora Nevi dice Borghi al di là di nuovi provvedimenti nuovi decreti operazioni a beneficio delle telecamere assumete le persone che servono nelle forze dell'ordine per esempio quello sarebbe diciamo un segno tangibile che si vuole fare qualcosa ma noi siamo d'accordo chiaramente su questo e l'abbiamo messo pure nel programma elettorale il problema è sempre lo stesso è la compatibilità finanziaria io penso che servano tutte e due le cose c'è bisogno di far vedere anche plasticamente che lo Stato c'è che lo Stato fa rispettare le regole tant'è vero che Piantedosi ha rimarcato il fatto che questa è stata un'operazione chiaramente a seguito dei fatti ma che da qui in avanti ci sarà una maggiore attenzione e una maggiore presenza soprattutto nei luoghi diciamo dove viene segnalato del degrado sociale ma io mi auguro che ci sia questa progressione come dite voi è evidente rispetto anche delle misure economiche ci vuole il tempo di una legislatura per dispiegare tutto questo lo dico perché mi pare che l'altro giorno il governatore della Campania ha detto bisogna militarizzare per un anno quelle zone nel senso che bisogna fare le operazioni appunto come quella di ieri probabilmente e poi però dotare queste aree di tutta una serie di cose che non ci sono film che abbiamo già visto film che abbiamo abbondantemente già visto zone come Caivano in Italia tra l'altro ce ne sono quindi insomma non possiamo militarizzare tutto il paese anzi io sono assolutamente contrario però sì è evidente che servono dei presidi di legalità nelle zone più difficili e quindi su questo siamo assolutamente d'accordo voglio questi ultimi 12-13 minuti vorrei fare due cose intanto oggi a proposito di morti sul lavoro ci sono altri due morti sul lavoro in poche ore stamattina un credo un 35enne che è morto in Molise travolto dal trattore e poi c'è un altro adesso è appena arrivata un altro incidente a Caserta dove un operaio è morto schiacciato non ci sono diciamo altri dettagli ecco tanto per capirci viaggiamo sui due tre purtroppo morti al giorno Graziani però la domanda che voglio fare io legata anche al servizio che abbiamo visto che si incrocia inevitabilmente con l'altro grande tema di questo momento il salario minimo eh perché diciamo la CISL rispetto a CGL e Will ha dei distinguo come la pensate salario minimo per legge sì no allora intanto mi collego esclusivamente un attimo alle informazioni sulla salute e sicurezza 25 mila poliziotti mancano mancano un sacco di persone nella pubblica amministrazione soprattutto negli ispettorati per fare in modo che i controlli funzionino come si dice in maniera dignitosa anche perché bisognerebbe iniziare a mirare perché il problema vero è prevenire controllare e fare in modo che gli incidenti non accadano sul salario minimo noi non è che abbiamo posizioni differenti noi siamo coerenti con un'idea che quello che è una virtù di questo paese un sistema di relazioni industriali un sistema di relazioni tra parti sociali che è molto diffuso molto evoluto che ha messo nelle condizioni il 97% questo lo dice il CNEL il 97% dei lavoratori in tutti i settori di essere coperti da un contratto collettivo nazionale di lavoro che non si occupa soltanto del minimo salariale ma del complessivo dello stare nel mondo del lavoro e quindi della protezione più complessiva da questo punto di vista noi pensiamo che è la contrattazione che deve definire quali sono i minimi contrattuali poi serve una legge che come si dice ci sostenga davvero nella contrattazione non come mi pare più in apparenza nella proposta di legge dell'opposizione dove si definisce un salario della sua sinistra c'è due politici che sono contrari entrambi ma in questo senso a questa proposta noi crediamo che il contratto collettivo nazionale di lavoro più diffuso in ogni settore debba tracciare attraverso il trattamento economico complessivo il famoso tech il salario minimo contrattuale che in molti casi nella stragrande maggioranza dei casi è già superiore a quello che fisserebbero i 9 euro per cui da questo punto di vista se serve una legge una norma che ci permetta di costruire un rafforzamento della contrattazione collettiva delle organizzazioni dei contratti fatti da CGL e CISNW ben venga ma sono la maggioranza l'unica proposta è quella che annunciò Tajani tempo fa di Forza Italia noi abbiamo depositato il disegno di legge sulla partecipazione agli utili dei lavoratori facciamo la parte le prime genituri lasciamo perdere devo dire che mi inguaglio da solo fatemi chiedere però a Marcello Veneziani che non abbiamo molto tempo e a me mi interessa molto sapere perché Marcello Veneziani Gian Battista Vico è il più grande pensatore italiano perché? beh innanzitutto è un pensatore cruciale cioè nel senso che non riusciremo a capire neanche la storia politica e culturale del Novecento senza Vico a Vico si sono rifatti le culture liberali socialiste nazional fasciste cattoliche perché è un autore nodale nel rapporto tra la storia e il pensiero ed è un autore stranamente poco conosciuto non esisteva una biografia di Vico eppure Vico è un personaggio decisivo ecco ripercorrere il pensiero di Vico e la storia di Vico nel suo tempo significa anche riscoprire quel volto importante del Sud quando Napoli era una capitale europea e quando il Sud aveva come dire in germe tutte le potenzialità per essere diverso rispetto a quello di oggi ecco scoprire il pensiero di Vico significa scoprire l'importanza della fantasia creatrice del mito il valore dell'infanzia come guida nel pensiero l'importanza della storia che si ripete il famoso slogan ormai di tutti corsi e ricorsi che non è la ripetizione automatica della storia ma è il cambiamento con l'innovazione ma al tempo stesso l'analogia con le epoche passate ecco Vico ci offre uno spettacolo un panorama generale della nostra storia dell'umanità attraverso un'angolatura che credo sia ancora insuperata per questo io penso che Vico sia davvero un miracolo in sé da qui il titolo dei miracoli perché sia un autore ancora inesplorato e decisivo per capire il pensiero italiano il pensiero mediterraneo e diciamo il pensiero meridionale ecco sul pensiero mediterraneo ci può insegnare qualcosa a proposito di tutti i nostri rapporti con la come si dice l'altra sponda del Mediterraneo si parla molto no di Piano Mattei e via dicendo ci insegna qualcosa Vico in questo può darci degli spunti beh Vico ha naturalmente una visione mediterranea legata al suo tempo è legata al rapporto col mondo antico quindi per lui mediterraneo vuol dire civiltà greca civiltà romana e civiltà cristiana ma c'è comunque un rapporto e un'attenzione nei confronti dell'umanità perché il suo pensiero è animato da una pietas cioè da un senso di rispetto nei confronti dell'umanità in generale ecco è un autore sorprendente perché pur essendo è un autore cattolico è un autore cattolico che fu peraltro in forte conflitto con l'elite intellettuale del suo tempo elite diciamo così progressiste ate razionaliste ma lui seppe percorrere una via originale perché non pensava a un ritorno al passato pensava invece alla bellezza del mondo che ringiovanisce col tempo dice una cosa bellissima cioè che il tempo avvia di avere scoperte scientifiche di ritrovare mondi inesplorati diventa sempre più giovane ecco è un'idea di speranza in un'epoca di decadenza quindi mi sembra che sarà ordinario il pensiero di Vic e cibo per la mente quello che ci ha raccontato Veneziani prima di chiudere guardo diciamo entrambi sia borghi che nevi ma l'europeo è andato insieme Italia Viva anzi il centro è forza Italia chi risponde? andate insieme? nevi? penso che la politica sotto l'ombrellone sia finita perché adesso si comincia a lavorare parliamo di cose serie e non parliamo di gossip ma chi vuole abbassare la soglia del 3% mi pare che poi ci sia un problema di fondo cioè noi siamo in due campi diversi noi siamo nel centro-destra il centro insomma o comunque Renzi vuole fare una cosa di centro cioè sganciata dalle due coalizioni quindi è una cosa diversa adesso che che poi durante l'estate si metta tutto insieme c'è il gossip questa cosa è il 3% per esempio ma non si sa da dove è venuta fuori insomma dove hanno scritto tra l'altro che noi di Forza Italia pezzi di Fratelli d'Italia erano d'accordo noi siamo contrari siamo per lasciare la legge quella che è con lo sbarramento al 4% se ci fosse una modifica da fare alla legge elettorale per le europee a mio avviso sarebbe quella di forse ripensare queste macro circoscrizioni europee e tra l'altro il sistema preferenze che è un unicum in tutta Europa perché noi abbiamo sulle elezioni politiche senza preferenze sulle elezioni europee invece abbiamo loro sono ammalati di sindrome di Stoccolma vogliono rimanere con il loro carceriere ma voi invece il 4% ce la fate? ma guardi l'operazione centro va ben al di là del 4% la dico in una battuta veloce il quadro politico si è radicalmente modificato rispetto a qualche anno fa qualche anno fa esistevano il centro-destra e il centro-sinistra oggi con tre passaggi significativi nella recente storia politica la vittoria alle elezioni di Giorgia Meloni la vittoria di Eli Schlein alle primarie e purtroppo la scomparsa di Silvio Berlusconi ha creato un meccanismo diverso ha creato a destra una destra nazionalista che viene insidiata alla propria destra e a sinistra uno spostamento del PD in una dinamica radicale questo pone un problema di rappresentanza noi ci proponiamo per colmare quella rappresentanza sulla scia di questo suono sicuramente l'ultima battuta posso fare l'ultima battuta una cosa ovviamente è la classe politica una cosa sono gli elettori però voi Forza Italia attingete allo stesso bacino probabilmente noi ci rivolgeremo noi ci rivolgeremo a tutti quegli elettori che non si sentono rappresentati più da Forza Italia né dalla destra nazionalista di Salvini e Meloni né dalla sinistra populista di Schlein e Conte ha sentito Nevi è la quarta volta che lo fa questo schema Renzi perché quando è nato basta ricordare sì ma l'ultima ha preso il 6 e mezzo quindi con calenda con calenda cioè vorrei dire che se noi andiamo a rivedere le dichiarazioni che faceva Renzi e Renzi prima delle elezioni politiche è esattamente questo la verità sono nervosi la verità è che esiste il centro-destra il centro-destra il centro-destra il centro-destra il centro-destra il centro-destra eccomi qua Andrea buongiorno dobbiamo ripartire dalla tragedia infinita delle morti sul lavoro perché c'è quel video terribile recuperato nel cellulare di Kevin Laganà uno dei cinque operai morti a Brandizzo ma c'è anche notizia di pochi istanti fa una nuova morte in un capannone a Caserta perché continuano a succedere drammi di questo genere manca una cultura della sicurezza sul lavoro in Italia servono nuove leggi ne parleremo anche con Raffaele Guariniello magistrato oggi in pensione ha condotto tante inchieste sugli incidenti sul lavoro fino ad arrivare alla grande inchiesta Tissen a proposito di leggi da cambiare Salvini ha annunciato come ha fatto Piante e Dosi un nuovo provvedimento domani in consiglio dei ministri sulle baby gang quindi la risposta è quella di intervenire per tutte le emergenze di questo paese con il codice penale con noi a discuterne Matteo Ricci del sindaco di Pesaro Luca Sommi Sarina Biraghi Marco Campedosi dopodiché ripartiremo ritorneremo in Ucraina perché oggi a sorpresa arriva il segretario di Stato faremo un punto sull'avanzamento della controffessiva Ucraina e proveremo a ragionare anche degli effetti sul mercato dell'energia di questa crisi che si prolunga il barile del petrolio è arrivato a oltre i 90 dollari questo è sicuramente un problema che chiama in causa anche tutto il tema della inflazione questo e tanto altro tra poco all'area e anche le previsioni diciamo in Europa non volgono al meglio dal punto di vista economico voglio chiudere ma deve essere proprio un flash con Panarari che pensi Massimiliano il centro il centro di Renzi dunque la polarizzazione è in atto da tempo appunto noi non vediamo più un centro-destra e un centro-sinistra ma sostanzialmente un destra-centro al governo e una sinistra-centro dunque lo spazio potenziale c'è però come sempre succede soprattutto in un sistema politico come il nostro che non ha definitivamente consolidato le sue offerte serve un leader e diciamo il consumarsi della parabola di Renzi è piuttosto evidente questo naturalmente rappresenta un problema e una domanda che va più strutturata anche in termini appunto di costruzione di un partito che non sia personale vabbè vediamo quali saranno i leader all'orizzonte grazie a Nevi grazie a Borghi grazie a Giorgio Graziani grazie a Massimiliano Pallarari grazie a Marcello Veneziani ci vediamo domani stesso luogo stessa ora grazie grazie a tutti grazie a tutti